bene carissimi amici amiche siamo di nuovo insieme per una nuova puntata del catechismo di san pio decimo questa è la tredicesima puntata siamo all'interno dell'analisi del primo comandamento la volta scorsa abbiamo concluso dando un'occhiata al peccato di irreligiosità siamo entrati dentro questo comandamento abbiamo visto che cosa ci ordina e che cosa proibisce tra le proibizioni appunto abbiamo visto già le impietà la superstizione e l'irreligiosità ci mancano alcune cose che adesso vedremo quindi riprendiamo dal 174 in poi se il culto delle creature è superstizione come non è superstizione il culto cattolico degli angeli e dei santi il culto cattolico degli angeli e dei santi non è superstizione perché non è culto divino o di adorazione dovuta a dio solo noi non li adoriamo come dio ma li veneriamo come amici di dio e per i doni che hanno da lui quindi per onore di dio stesso che negli angeli e nei santi opera meraviglia ora vorrei fermarmi un attimo su questo punto perché questo è un punto molto importante quindi la distinzione tra la venerazione che è dovuta agli angeli e ai santi e un'eventuale forma di superstizione nei loro confronti o addirittura una sorta di adorazione quindi l'idolatrare il santo qui amici cari il confine è molto molto sottile perché è un confine interiore i gesti che si fanno sono simili ma lo spirito con cui si fa è completamente differente e mentre evidentemente il prestare culto idolatrico a un santo è un peccato molto grave il rendergli la venerazione che gli ha dovuto che gli ha dovuto è un atto dovuto perché è un atto della virtù di religione e si sono stati sempre degli estremi non sapete che per esempio i protestanti hanno distrutto tutte quante non ci stanno madonna santi niente con la scusa dell'idolatria allora questo vale anche diciamo così mutatis mutandis per le persone che anche in questo mondo pur non dovendo assolutamente canonizzare nessuno perché le canonizzazioni spettano a santa madre chiesa dopo la morte del diretto interessato però ci potrebbero essere delle figure di riferimento parlo soprattutto per esempio dei sacerdoti o di viscovi o comunque o di un religioso o di una persona o di un carismatico responsabile di un movimento ecclesiale eccetera eccetera che quando è che diciamo così in un certo senso la venerazione è un po' troppo perché la venerazione è dovuta a un santo canonizzato però è chiaro che come dire sia generalmente verso queste figure rappresentative punto primo una non venerazione una riverenza che è un'altra cosa rispetto alla venerazione no è anche come dire un certo un certo comprensibile normale e per certi aspetti anche doveroso affetto gratitudine qual è il confine tra ciò che si può e ciò che poi diventa idolatria questo ce lo dobbiamo chiedere semplicemente interrogando il nostro cuore perché non c'è una risposta precostituita no e cioè se una persona c'è una manifesta come dire una gratitudine di una venerazione una considerazione per un uomo di dio per il bene che gli ha fatto certamente userà parole belle no e di come dire di stima di elogio adesso qui l'uomo di dio dovrà come dire non non importarsene mai di queste cose e non usarle mai per montare in superbia perché tutto quello che il signore fa attraverso di lui è solo grazia di dio e al tempo stesso però l'autore di questo non dovrà mai dimenticare che se l'usignolo canta è perché il nostro signore gli ha fatto le corde vocali altrimenti non canterebbe ecco però il confine no il confine su questo non possiamo mai giudicare non possiamo dire quello sta idolatrando una persona non lo possiamo mai dire perché non non vediamo il cuore certo se nel cuore c'è troppo quindi una venerazione che va oltre e che che diventa come dire referenziale quindi non è più una gratitudine per quello che questa persona cioè per quello che dio attraverso questa persona ha fatto nella mia anima che però passa anche attraverso quella quella persona e diventa altro questo è un fatto su cui dobbiamo interrogare il cuore e questo può succedere anche per un santo però è quindi perché se un santo viene un po troppo ecco è un po troppo innalzato sapete che padre pio c'è per esempio quando ci stanno dei gesti come dire che sono completamente fuori luogo no avete visto padre pio ci mettevano davanti al santuario le immaginette le cose no quindi questi culti della personalità non vanno mai tanto bene e anche diretti interessati dovrebbero fare in modo di scoraggiarli padre pio scendeva e buttava tutti quanti i cosi per aria no cioè come dire i poster le foto queste questo sono sono sicuramente cose che che stanno fuori luogo specialmente per le persone viventi certamente poi è un canto canonizzato per carità gli si dedicano anche le chiese quindi può fare la statua si può fare certamente un io ce l'ho dietro santa gemma calgani insomma si vede dal video quella ma quella è l'unica foto pare che fosse autentica di santa gemma calgani una delle pochissime specialmente in quella posa di preghiera per questa che 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 la presi quando andò a lucca è una delle delle poche non ecco però bisogna aspettare che siano canonizzati e noi li veneriamo come amici di dio anche come esempi quindi come persone che hanno vissuto in comunione con il signore quindi che hanno da darci l'esempio della loro vita la testimonianza della loro parola a volte l'insegnamento dei loro scritti quindi ecco le posizioni cattoliche sono sempre equilibrate ricordate sempre che in ogni virtù si pecca con il troppo e si pecca con il troppo poco quindi infischiarsene dei santi o anche non avere riverenza o gratitudine per non una persona che pur non essendo ancora santa in questo mondo però è un tramite tra noi e dio non va bene idolatrarli non va bene lo stesso ecco quindi 175 chi sono i santi chi è un santo i santi sono coloro che praticando eroicamente le virtù secondo gli insegnamenti di gesù e gli esempi di gesù cristo meritarono speciale gloria in cielo e anche in terra dove per autorità della chiesa sono pubblicamente onorati e invocati capiamo bene questa 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 cosa no allora il santo è uno che ha praticato le virtù in grado eroico quindi attenzione a dare attestazione di santità precoci fino a quando uno è in vita non può avere attestazioni di santo perché come il diavolo ha dichiarato gli esorcisti lo sanno bene in più di qualche circostanza fino alla fine può essere tentato e fino a quando non muore può essere vinto dal diavolo quindi non è santo chi fa qualche esplua sporadico nella vita terrena ma chi persevera fino alla fine e ci riesce a morire da santo e questo nessuno lo può dire qui uno è santo quando ha praticato le virtù cristiane in grado eroico quindi non basta praticare le virtù cristiane uno deve essere un eroe quindi vuol dire che è andato oltre cioè non è andato ad una come dire ad una pratica ordinaria delle virtù questo caratterizza lo stato dei fedeli il santo è quello che ha esagerato è andato appunto in grado eroico generalmente ogni santo c'è qualche virtù in cui si distingue più che nelle altre però per essere santo le virtù devono essere praticate in grado eroico e quindi vuol dire molte prove quindi chi aspira alla santità sappia che ricordi le parole del bellissimo salmo 33 molte sono le prove che attendono il giusto ma da tutte l'orribile del signore o quel passo del siracide figlio se ti presenti a servire al signore preparati alla tentazione perché stai tranquillo che non mancherà quindi eroismo nelle virtù e quindi sotto questo punto di vista sono degli esempi per noi il santo è anzitutto un esempio un esempio da seguire e un maestro da ascoltare spesso e volentieri dopodiché Dio vuole che i santi siano anche pubblicamente onorati e venerati non soltanto onorati ma anche venerati la venerazione ha fondamento nel merito perché si venerano le persone che sono meritorie l'onore è una cosa che è dovuta ad una persona che occupa una certa eccellenza anche a prescindere dal merito sotto questo punto di vista i santi vanno onorati perché comunque sono superiori a noi ogni superiore cioè l'onore è dovuto ad un'autorità e ad un superiore onora tuo padre e tua madre il padre e la madre si devono onorare a prescindere dal fatto che siano un santo padre e una santa madre vanno onorati punto e basta perché rivestono un ruolo di autorità e ci hanno dato qualcosa che noi non possiamo restituirgli ma la venerazione io posso venerare anche mio padre e mia madre se se lo meritano cioè se sono stati dei grandi padri e delle grandi madre quindi il santo va onorato e anche venerato per le virtù che ha praticato e poi va invocato perché sono amici di Dio e in quanto amici di Dio e quindi intimi di lui possono ottenerci delle grazie ottenerci delle grazie cioè io non voglio fare il pedante cioè capito uno può anche dire sant'antonio mi ha fatto la grazia cioè anche se non è corretto dire questa cosa qui perché sant'antonio non ha fatto la grazia sant'antonio ha ottenuto la grazia no anche la madonna mi ha fatto la grazia con tutto il rispetto evidente non rispetto è poco con tutto l'amore e l'onore di iperdulia che si devono alla madonna ma la madonna non fa le grazie la madonna le ottiene è l'onipotente per grazia le ottiene tutte presso il signore perché chi fa le grazie è Dio quindi io posso dire alla madonna mi ha fatto la grazia posso dire sant'arita mi ha fatto la grazia san francesco mi ha fatto la grazia sant'antonio mi ha fatto la grazia padre pio mi ha fatto la grazia purché lo dica ricordando che quello è un tramite non è colui che me l'ha fatta più corretto sarebbe dire padre pio mi ha ottenuto la grazia perché le grazie le accorda nostro signore sulla base delle nostre preghiere e quando la nostra preghiera vuole essere la forzata perché io penso giustamente almeno io lo penso di me stesso ma ti pare che il nostro signore sta a sentire a me misero e abile come sono quindi mi raccomando a qualche santo si dice anche nel linguaggio comune non sa che santo può votarsi no ecco e i santi ci ottengono anche le grazie quindi o 176 perché noi veneriamo anche il corpo dei santi noi veneriamo anche il corpo dei santi i corpi che rimangono incorrotti oppure i corpi che vengono in qualche modo ricomposti attraverso la cera noi veneriamo il corpo dei santi certo che veneriamo primo perché serviva ad esercitare le virtù eroiche e il nostro corpo qui san francesco lo chiamava il suo marello il nostro corpo ci serve per praticare le virtù eroiche non soltanto le virtù della penitenza e della mortificazione dove la forza al corpo di serve perché la mortificazione corporale corpisce il corpo corpisce digiuno se soffre nel corpo insomma oggi è mercoledì quindi facciamo qualche rimembranza ma anche per tutte quante le altre virtù no il corpo è solerte per adorare il signore mi serve il corpo perché servono anche i gesti esterni di adorazione no per io per fare il prete mi serve il corpo perché devo da battesimo uso le mani se devo da l'olio sano l'olio santo uso cioè il corpo ci accompagna in tutto quello che facciamo lo salvo la nostra vita profondamente interiore e quindi il corpo è lo strumento con esercitiamo le virtù ma è anche il tempio dello spirito santo ragazzi corpo è tempio dello spirito santo non solo è la materia abitata come forma sostanziale dall'anima spirituale noi del corpo ne ho parlato già in un altro ciclo di catechesi così facciamo sempre gli spot pubblicità che è dedicata ai novissimi con la moda balorda oltremodo balorda che si va diffondendo sempre più anche tra i fedeli e questo è un altro segno dei tempi della cremazione il corpo per noi è sacro per cui adesso ho parlato altruolo quindi non metto a fare una tracatichia sulla cremazione ah ma la chiesa adesso lo consente lo permette una cosa che la chiesa consente o permetta non vuol dire che sia una cosa raccomandata come spiegato nell'istruzione emanata nel 2014 dal cardinal muller e sottoscritta dal papa una cosa che è permessa non è affatto da oggetto una cosa che è permessa vuol dire che se proprio vuoi te lo concedo a certe condizioni ma sarebbe meglio di no questa è una cosa permessa pensiamo a tutte quante le altre permissioni che girano anche dentro la chiesa no una cosa permessa non è una cosa lodevole né tantomeno raccomandata e poi risorgerà glorioso per la vita eterna quindi ci sono molti motivi o altra cosa perché veneriamo anche le minime reliquie le immagini dei santi o le reliquie dei santi sono un bel po per grazia di dio anche qui allora veneriamo anche le minime reliquie e le immagini dei santi per loro memoria e onore riferendo a essi tutta la venerazione ha fatto diversamente dagli idolatri che rendono alle immagini o idoli un culto divino la reliquia è qualche cosa che mi ricorda il santo a cui anzitutto un ricordo per noi ricordare è sempre una cosa importante in questo mondo guardate il ricordo la la memoria è una cosa fondamentale no o facite me am commemorazione se gesù a istituendo l'eucarestia fate questo in memoria di me si dice traducendolo in italiano quindi pensate quanto è importante la la memoria no l'eucarestia è anche il memoriale della morte celebrando il memoriale della morte risurrezione del suo che cioè attraverso l'eucarestia noi abbiamo un ricordo continuo per nostro signore quella non è una reliquia quello è il corpo vivo è vero di nostro signore no non ci stanno reliquie di nostro signore ma della madonna qualcosa c'è io c'ho la grazia della fortuna di avere una reliquia con un frammento di un velo della della madonna anche di san giuseppe ci sono delle reliquie degli abiti quindi è bellissimo avere so come delle delle fotografie c'è alcun oggetto che appartenuto a una persona che abbiamo voluto bene però non è una cosa preziosa in questo senso le reliquie sono una cosa non è che io idolatro la reliquia e attraverso la reliquia stessa gli rendo onore la reliquia la posso baciare la reliquia la posso trattare con onore la reliquia si espone quando si celebra la messa gli altari venivano consacrati adesso purtroppo possono anche essere soltanto benedetti ma un tempo venivano rigorosamente consacrati con la sacra pietra che conteneva le reliquie dei martiri no sacrificio di cristo si è sempre celebrato soltari consacrati sopra le reliquie dei martiri cioè significare che c'è un solo sacrificio tra cristo e i suoi no proprio la concezione cattolicissima della messa no il sacerdote che celebra si immola con cristo e deve immolarsi con cristo quella è la vera messa cioè deve farlo e deve anche trovare il modo di dirglielo durante la messa signore mio mi molo con te e un fedele che partecipa alla messa stessa cosa la messa che si celebra sull'altare dove ci sono le reliquie dei martiri quindi di quelli che hanno dato il top il massimo più del sangue non te lo posso dare vedete quante cose belle che noi sappiamo no ecco poi i chiacchieroni questo sempre sono sempre polemiche sta tornando però un pochino questa cosa qui è della minimizzazione perché dopo alla fine degli anni 60 c'è stato lo spopolamento alle chiese tolte tutte le statue tutte le immagini sono devozioni sono cose che non servono anche sotto queste immagini di santi di cose leviamo sta roba la centralità di Gesù Cristo qualcosa di questo genere quindi non lo so se è finita questa questa sorta di di modernista iconoclastia ecco non non lo so speriamo che sia finita o 178 dio nel vecchio testamento questo sono gli argomenti se voi parlate con un evangelico vi verrà a dire ah non si possono venerare le immagini dei santi è stato dei santi perché dio nel vecchio testamento ha proibito le immagini pensate che io avevo un conoscente più che un conoscente insomma che troppo si è convertito e diventato evangelista un giorno mi incontra poco prima di natale mi fa ci sparliamo ma adesso è santissimi anni fa credo che era ancora seminarista dico vabbè io adesso devo andare a casa a fare il presepe il presepe tu fai il presepe dico certo faccio il presepe dico ah non hai letto la bibbia non vi farete immagini di cose alcune eccetera eccetera no qui il catechismo di San Pio X risponde a queste ecco come voglio chiamare baggianate ecco usiamo un termine tranquillo ecco e forbito dio nel vecchio testamento certo che proibì severamente le immagini da adorare anzi quasi tutte le immagini ma perché come occasione prossima di idolatria per gli ebrei i quali vivevano fra gli idolatri ed erano molto inclinati alla superstizione cioè il fatto che di dio non ci si possa fare immagine alcuna rimane d'accordo rimane anche adesso solo che c'è una piccola variante noi abbiamo il fatto che dio si è fatto nostra immagine se vogliamo perché si è fatto uomo e quindi dal momento che dio si è fatto uomo noi possiamo rappresentare il nostro signore noi possiamo fare un crocifisso anzi dobbiamo farlo Gesù stesso attraverso l'immagine della divina misericordia e della santa Faustina ha voluto mostrarsi perché possiamo conservare quasi una fotografia no? scusate ma gli innamorati c'erano una fotografia certo che possiamo fare una rappresentazione di dio padre insomma certo nell'iconografia bizantina e anche un pochino cattolica sono entrate alcune cose la famosa trinità di Rublioff oppure le immagini un po' caravagesche quindi che il padre è rappresentato sempre come una persona molto molto anziana il figlio crocifisso e lo spirito santo sempre attraverso la colomba quindi il padre come persona molto anziana perché nella sagra scrittura c'è quella immagino l'antico di giorni quindi è a significare in qualche modo la sua inascibilità e la sua eternità quindi si può ecco perché non c'è più il pericolo dell'idolatria perché nell'antico testamento la prima manifestazione di dio è stata come l'unico come il trascendente proprio per liberare da tutte quante le forme idolatriche che c'erano anche nel territorio circostante gli ebrei perché non c'erano soltanto a Roma e ad Atene le rappresentazioni di tutti quanti gli dèi, il dio della guerra, il dio dell'amore eccetera eccetera lo sappiamo, gli olimpi ma peggio ancora presso le religioni cananee perché molti culti per esempio il culto a Moloch erano culti demoniaci o il culto a Baal di cui si parla nel profeta Elia Baal e Moloch leggete i libri degli esorcisti sono nomi di demoni quindi attraverso il culto a queste che venivano reputate divinità capiamo a chi si rendeva culto quindi te credo che il nostro signore ha proibito di farsi immagine alcuna rimane da approfondire il catechismo di San Pio X ma non lo fa perché si ferma qui ma lo faccio io per ricordare che il primo comandamento ci proibisce l'impiantare la superstizione di religiosità andiamo adesso a vedere un attimo l'apostasia, l'eresia il dubbio volontario e l'ignoranza colpevole delle verità della fede non rifaccio le catechesi sui dieci comandamenti però alcune cose le dobbiamo vedere l'apostasia l'apostasia oggi è peccato diffusissimo perché l'apostasia è il rinnegamento della fede o della vera fede una volta che tu ce l'hai avuta oggi l'apostasia è un peccato come dire collettivo di nazioni su nazioni perché il neopaganesimo a cui stiamo assistendo mascherato molte volte adesso c'è il totem dello stato laico il totem dello stato laico che diventa poi il cavallo il lascia passare per poter fare delle leggi immorali quindi non soggetti alla legge di Dio né alla legge naturale ma questo dopo duemila anni di cristianesimo cioè il mondo occidentale ha rifiutato Dio ha apostatato questo sia ben chiaro e l'apostasia oggi dilaga anche dove non dovrebbe stare peccato gravissimo l'apostasia poi c'è l'eresia anche qui l'eresia è l'alterazione o la falsificazione o la negazione di una verità di fede chi nega che esiste l'inferno è eretico chi minimizza per esempio l'eucaristia varianti moderni la messa la messa è anche un sacrificio però la messa non è essenzialmente cioè la messa innanzitutto è il memoriale il mistero pasquale eccetera eccetera la messa è essenzialmente dice il concilio di Trento un sacrificio all'interno del quale è chiaro che c'è anche celebrando il memoriale per carità in questo sacrificio celebriamo la memoria in questo sacrificio guardate il canone romano come si esprime bene in questo sacrificio padre celebriamo il memoriale della beata passione della risurrezione della morte e della gloria dell'ascensione attenzione attenzione ma in questo sacrificio non è che attenzione nel memoriale c'è il sacrificio no? al contrario nel sacrificio del memoriale così come la presenza reale di Gesù nell'eucaristia non va minimizzata quindi l'eresia è un'alterazione la negazione o una minimizzazione che poi diventa di fatto una negazione pratica di una verità di fede attenzione che oggi l'eresia appare in forma intelligente suggerisco a tutti perdonatemi non ho pubblicità non ho nessun rapporto ma un testo molto bello che ho lessi qualche anno fa un po' difficile lo dico subito di Martin Mosebach che è l'eresia dell'informe Martin Mosebach è un intellettuale cattolico conservatore straordinario per quanto mi riguarda veramente una mente non indifferente il libro si chiama l'eresia dell'informe perché è un libro denuncia molto molto opportuno sulla modalità moderna contemporanea di questi ultimi anni con cui l'eresia appare oggi l'eresia non appare in termini manifesti cioè ai tempi dei luterani i luterani andavano in chiesa i luterani adesso mi ricordo se non luterani i protestanti a ammazzare la gente a volte perché dicono state prostrati dinanzi a quella cosa a un disco di pane questo dicevano siete idolatri e li ammazzavano perché per loro loro dicevano quello un pezzo di pane l'eucaristia non c'è nessuna presenza reale è semplicemente un ricordo dell'ultima cena detta in questi termini se tu la dici a una chiesa cattolica o una cosa del genere tu sei eretico proprio eretico eretico ma oggi non è così oggi c'è l'eresia dell'informe quindi non si dice un'eresia aperta perché l'eresia aperta si condanna subito ma la si in pacchetta quindi non l'eresia aperta ma la mezza verità il linguaggio ambiguo il giro di parole il dire sì questo è così però c'è anche eccola che cosa succede questo è peggio cioè quando una cosa viene presentata in questo modo nessuno può dire a quello eretico e qui ti risponde subito io non ho mica negato la verità di fede ma te l'ha svuotata quindi è un atteggiamento demoniaco perché mentre ripeto l'eresia è una è una giocata a carte a scoperta il demone non gioca mai a carte scoperte il demone non gioca sempre a carte coperte e ti deve far digerire una cosa un veleno pensando che tu restai prendendo un farmaco salutare leggetelo chi ce la fa ecco è un libro da leggere veramente molto molto perché aiuta a capire molto bene alcune dinamiche dei tempi particolari chiamiamoli così che stiamo vivendo o poi c'è il dubbio volontario non dimentichiamo mai che la fede non ammette dubbi ripeto eh la fede non ammette dubbi cioè che Dio esiste è più sicuro che non che esisto io che Dio è trino è più sicuro che non che le mani che le dita della mia manna sono cinque che Gesù Cristo è Dio è più sicuro del sole che vedo quando alzo gli occhi che la Madonna è la madre di Dio che ha tutte le virtù possibili immaginabili che è vergine prima durante e dopo il parto che è la madre di Dio che è assunta e che è immacolata sono tutte quante cose tutto quello che ha a che fare con le verità di fede non è suscettibile di dubbio neanche minimo cioè io posso per un cristiano è più facile dubitare che 2 più 2 fa 4 che non di una verità di fede ogni volta che parlo di queste questioni ricordo sempre che il nocciolo del caso Galileo era questo Galileo diceva una verità scientifica io la posso constatare è incontrovertibile è evidente una verità di fede per definizione le verità di fede sono tutte inevitabili e tutte indimostrabili quindi fermo restando che sono le cose più importanti ma non sono quelle più sicure perché è più sicura la scienza della fede e no no perché l'evidenza di un fatto è meno forte dell'autorità di Dio che è impegnata e coinvolta in una verità di fede Dio non sbaglia ne può sbagliare non inganna ne può ingannare come hanno dimostrato i grandi scienziati che adesso ci sono le matematiche alternative e le geometrie alternative io ricordo il corso di filosofia le geometrie dello spazio cubo per esempio hanno relativizzato anche le conoscenze per esempio della geometria euclidea che a noi sembravano assolutamente controverti qualcuno si può mettere in discussione che la somma dei quadrati costruiti sui catedri è uguale al quadrato costruito sull'ipotenusa no attenzione se tu usi lo spazio piano ma se usi lo spazio cubo questo non vale più e quindi tutta questa incontrovertibilità non è assoluta ma è relativa perché dipende dal parametro di riferimento su cui quegli assiomi poggiano ma attenzione che che Dio è trino esiste qui se l'universo è infinito come si pensa ci saranno chissà quante galassie non è che qui Dio è trino poi un'altra galassia diventa bino o uno no che la Madonna è la madre di Dio è vera qui e in tutte le altre galassie del mondo che il figlio di Dio si è fatto uomo pur se ci fossero altri 100 milioni di forme di vita in tutto l'universo al figlio di Dio si è fatto uomo non si è fatto marziano ammesso che sto scherzando adesso no non sappiamo queste cose ma il figlio di Dio si è fatto uomo e questo è vero dovunque quindi il dubbio volontario che te possa sfiorare un dubbio dice ma che esisterà veramente l'inferno te può solo che sfiorare certo che esiste il nostro Signore ne ha parlato nel Vangelo fine del discorso ne ha parlato come di cosa esistente come di un pericolo reale come che non è vuoto anzi ci sta qualcuno ci ha detto che ci sta il ricco pulone ci ha detto che ci andranno quelli alla fine del mondo quelli che stanno saluti alla sinistra quindi fine del discorso finito oh e poi c'è un'altra cosa oltre al dubbio volontario questo è un problema attualissimo non certamente di voi chi ha la pazienza di ascoltarsi il diretto indifferita una catechesi di un'ora non è chi è certamente coinvolto in questa cosa ma quanti ce ne sono l'ignoranza colpevole delle verità di fede noi non possiamo dire non lo sapevo non lo sapevi questo è peccato ma non lo sapevo non lo sapevi come non lo sapevi io non mi rendevo conto di cosa era la santa messa non ti rendevi conto e chiedi informati perché non informarsi non informarsi nelle cose di fede è colpa grave perché sono le cose più importanti dell'ignoranza colpevole delle verità di fede e così abbiamo esaurito il primo comandamento questo chiaramente chi volesse approfondire di queste cose certamente non parlate molto a lungo nel ciclo di catechesi della sana dottrina cattolica dove ho parlato dei dieci comandamenti e dei sette sacramenti accorpandoli insieme i discorsi su questi due importantissimi ambiti dottrinali andiamo al secondo comandamento riprendendo la lettura del testo del catechismo comunque abbiamo letto anche prima semplicemente approfondendo alcuni aspetti che il catechismo aveva semplicemente enunciato senza approfondirli 179 che ci proibisce il secondo comandamento non nominare il nome di Dio in vano il secondo comandamento non nominare il nome di Dio in vano ci proibisce di disonorare il nome di Dio perciò di nominarlo senza rispetto di bestemmiare Dio la Santissima Vergine e i Santi e le cose sante di fare giuramenti falsi non necessari e o in qualunque modo illeciti allora andiamo a leggere il catechismo anche se poi qui vorrò fare una piccola digressione a meno che non mi diano i commenti appunto ai singoli numeri di farla prima se non la farò alla fine 180 che cos'è il giuramento? il giuramento è chiamare Dio in testimonio di ciò che si afferma o che si promette perciò chi giura il male e chi spergiura offende sommamente Dio che è la santità e la verità allora se io dico giuro che te la faccio pagare vuol dire giurare il male e quindi offendere la santità di Dio perché il giuramento quando si giura si chiama Dio a testimone o di ciò che affermo quindi ti giuro che quello che ti sto dicendo è vero oppure di ciò che prometto giuro che te la faccio pagare questo è un giuramento peccato mortalissimo perché Dio non viene a testimone di una cosa che ti ha proibito cioè di vendicarti oppure quando si giura il falso cioè si spergiura quindi i due peccati gravi contro la santità del giuramento sono lo spergiuro e il giurare il male ora amici il giuramento non è assolutamente proibito ma Gesù lo ha molto ridimensionato nei Vangeli quindi quando dice non giurate affatto non intende proibire di giurare questa è l'interpretazione che è sempre andata la Chiesa ma intende riservare il giuramento a quei casi in cui per motivazioni gravi diventa necessario per esempio una volta non lo so se lo fanno ancora ma non credo si giuravano i tribunali per chi deve essere sicuro di quello che tu dici per esempio un sacerdote lo sono fatto pure io deve giurare la fedeltà prima di diventare sacerdote prima di assumere l'ufficio di parro che il vescovo ti chiama tu reciti il credo e giuri fedeltà e giuri di osservare la legge della Chiesa di farlo osservare e di insegnare solo quello che la Chiesa vuole che si insegna capite? i preti lo giurano questo qui sappiatelo questo non lo sanno tutti quanti perché Chichino Nino lo manco io quindi l'ho saputo quando l'ho dovuto fare anch'io un tempo c'era il grande giuramento antimodernista disgraziatissimamente abolito il Papa Pio X che aveva fatto giurare ai preti di non aderire a nessuna delle dottrine dei modernisti magari si fosse mantenuto il giuramento antimodernista sicuramente alcuni preti bravi continuano a recitarlo in privato come giuramento perché dottor nessuno ce lo viede insomma di farlo no? secondo 181 è grande peccato la bestemmia la bestemmia è grande peccato perché ingiuria è scherno di Dio dei suoi santi e spesso anche orribile eresia attenzione che non c'è la bestemmia solo io la chiamo degli scaricatori di porto poverini che poi si scaricatori di porto può essere pure siano santi insomma no? ma per diciamo la bestemmia triviare la bestemmia volgare quindi l'ingiuria formale diretta rivolta contro Dio la Madonna e i Santi ma anche lo scherno di Dio no? farsi beffe o il trasformare la religione o le cose sante in oggetti di dileggio quanti ne abbiamo visti in giro? cioè si vedono delle cose specialmente in occasione di certe manifestazioni che poverino chi le fa ma degli oltraggi e delle bestemmie cioè quello che non è una bestemmia ma non è che una bestemmia quello è molto peggio della bestemmia triviale molto perché è una cosa preordinata pre predefinita cioè sono state fatte delle bestemmie contro la Madonna addirittura per giustificare come dire le fecondazioni assistite capite no? di tutto si sono inventati scherno di Dio o dei suoi santi sapete come dice il proverbio no? scherza con i fanti e lascia stare i santi se mi posso permettere le barzellette in paradiso non sono raccontate state sicuri gli uomini raccontano le barzellette ognuno in coscienza decida se è opportuno imbarzellettarsi perdonatemi il termine come dire neologisticamente polemico oppure no ma sicuramente se proprio non ne vuoi fare a meno scherza con i fanti e lascia stare i santi perché molte barzellette sono a sfondo cioè se ci comincia a entrare Dio San Pietro questo e quell'altro lasciate perdere se volete un pio consiglio d'accordo tanto poi se non mi date retta ve ne pentirete quando starete dinanzi a Domini Dio niente fanti e niente santi io evidentemente poi anche se non c'entra con l'argomento niente barzellette e contenuto sceno però non è roba da santi le barzellette cioè i santi sono certamente simpatici sono faceti tutto quello che vuole ma la barzelletta è una cosa molto molto umana diciamo così molto molto mondana chiusa la parentesi che ci ordina il secondo comandamento il secondo comandamento ci ordina ad avere sempre riverenza per il nome santo di Dio e di adempiere i voti e le promesse giurate riverenza non so in quale altro c'è l'intercalare il nome di Dio non è mai cioè togliamoci dalla bocca come dire di non di imprecare ma anche di intercalare cioè la nomina di Gesù di Maria di Dio dei titoli Madonna Cristo cioè per esempio cioè perdonatemi se se la dico cioè dire oh Cristo non è mica una cosa che si può dire non ditela oppure Madonna o peggio ancora questo non lo posso dire cioè che caspita stai facendo si potrebbe dire anche sostituendo caspita con il titolo di Maria qualcuno lo fa oppure fa un freddo terribile sapete benissimo che si può purtroppo dire con fa un freddo finitela voi la frase oh queste cose non si fanno cioè nei confronti di Dio della il rapporto che noi abbiamo con Dio con la Madonna dei Santi è un rapporto familiare di amore cioè un rapporto bello cioè io lo posso nominare 5.000 volte Gesù al giorno se lo nomino per dirgli Gesù ti amo per dirgli Gesù stammi vicino oppure Gesù mi manchi non vedo l'ora che comincia la messa ci posso purtroppo non andare 500 miliardi di volte in questo senso ma non in maniera irriverente mai o nel secondo comandamento c'è anche compreso il voto quindi abbiamo visto no il secondo comandamento proibisce di disuonare il nome di Dio ma ci ordina di adempiere i voti e le promesse giurate si possono fare voti a Dio certo scritto nella Bibbia c'è un salmo bellissimo fate voti al Signore vostro Dio e adempitevi un voto può essere un voto pubblico o un voto privato un voto semplice o un voto solenne un voto temporaneo o un voto perpetuo adesso non so se è il caso di approfondire troppo però il voto è una promessa fatta a Dio cioè se tu prometti a Dio una cosa quello è un voto anche se tu non dici faccio voto per evitare di incorrere in guai perché i voti si possono pure fare però il voto lo devi rispettare è sempre meglio fare un proposito proposito vuol dire cioè che io mi prendo l'impegno a fare qualcosa ma non una promessa formale perché le promesse bisogna adempiere se io faccio una promessa io devo essere fedele alla parola data e la parola data a Dio al voto è una promessa fatta a Dio e Dio si aspetta che tu poi quella cosa la fai eh nessuno ti ha obbligato a fare una promessa a Dio ma se la fai la devi adempiere cioè non perdiamo mai cioè il rapporto corretto con Dio ho detto tante volte unisce due cose che non si possono mai disgiungere una grande confidenza insieme a una grande riverenza un grande amore insieme a un grande timore una grande fiducia nella sua misericordia ma anche una grande un grande senso della sua giustizia qualunque visione unilaterale sotto questo punto di vista è fuorviante chiaro? quindi la confidenza senza riverenza non va bene non va bene neanche la riverenza senza confidenza la misericordia senza la giustizia non va bene non va bene neanche la giustizia senza la misericordia l'amore senza il timore non va bene il timore senza l'amore non va bene abbiamo tempo di introdurre il terzo comandamento forse anche di completarlo andiamo che ci ordini il terzo comandamento ricorda di santificare le feste il terzo comandamento ricorda di santificare le feste ci ordina di onorare Dio nei giorni di festa con atti di culto esterno dei quali per i cristiani l'essenziale è la santa missa atti di culto esterno attenzione e qui c'è l'obiezione per chi dice c'è la risposta che dice ah ma io il nostro signore me lo prego a casa mia ah io credo ma me lo prego a casa mia e no fratello mio va benissimo che lo prego a casa tua pure io lo prego a casa mia ma devi fare anche degli atti esterni devi farti vedere non per ostentare ma devi farti vedere adesso sentiremo perché 185 perché dobbiamo fare atti di culto esterno non basta adorare Dio che è spirito internamente nel cuore risposta non basta adorare Dio internamente nel cuore non basta proprio ma dobbiamo anche rendergli il culto esterno che Dio ha comandato perché siamo soggetti a Dio in tutto l'essere anima e corpo è un segno di soggezione a Dio noi dobbiamo stare sottomessi stare sottomessi a Dio è un onore è un vanto così come stare sottomessi per amore di Dio a tutte le autorità da Lui costituite e che esercino l'autorità ovviamente in modo a Lui gradito e conforme soggetti a Dio anima e corpo e poi perché dobbiamo dare il buon esempio e anche perché altrimenti se così non fosse si perderebbe lo spirito religioso quindi non avere paura voi sapete che c'è gente che non va in chiesa specialmente nei piccoli paesi io ne so qualcosa perché andare in chiesa è disonorante è disonorante che fai che fai che vai in chiesa ti vai a confessare cioè in certi piccoli centri io noto quello che vedo qui ma credo che sia una cosa molto diffusa nei paesi ci sono alcune cose attinenti alla religione che farle è un punto d'onore non farle è un disonore un esempio sotto tutti incollarsi le statue durante le processioni lì escono fuori e compaere in quelle circostanze di tutto e di più gente che tu non vedi mai in chiesa ma ci può rimettere l'orologio che sta in prima fila a portare la statua che cosa si capisce da questo che nella mentalità piccina ristretta di un paese portare la statua per un uomo è una cosa doc quindi è una cosa onorevole ma andare in chiesa no è disonorevole pensate che distorsione no? però è così ora che cosa ci proibisce il terzo comandamento? oh il terzo comandamento ci proibisce nei giorni di festa questo è il famoso problema dei lavori che si possono fare le opere servili catechismo di San Pio X e 187 quali sarebbero queste opere servili? sono i lavori manuali propri degli artigiani e degli operai cioè i lavori servili sono i lavori che affaticano notevolmente il corpo quelle che proprio che ti spossano quindi lavoro di un operaio lavoro di un artigiano sono proibite nei giorni festivi tutte le opere servili 188 nei giorni di festa sono proibite tutte le opere servili non necessarie alla vita e al servizio di Dio non giustificate dalla pietà o da altro grave motivo qui entra tutta quanta la problematica dell'attuale mondo contemporaneo e di tutti quanti i lavori che si fanno con non scialanza di domenica ci sono evidentemente dei paletti io questi li dico in conclusione che tanto abbiamo finito dopo c'è soltanto il numero 189 brevemente per esempio un'attività che non sia strettamente necessaria o socialmente rilevante non si deve fare di domenica se io sono sono un dipendente lavoro al supermercato il supermercato è aperto di domenica che devo fare dipende se tu non sei obbligato a lavorare di domenica e non perdi il posto di lavoro per questo tu non devi andare a lavorare di domenica perché generalmente chi va a lavorare di domenica viene pagato di più in certi contratti e se lo fai per questo motivo sicuramente pecchi sicuramente è chiaro che se tu stai sotto ricatto cioè tutti i dipendenti sono tenuti a fare i turni anche di domenica appena il licenziamento il discorso è diverso fermo restando l'obbligo di osservare il precetto festivo e di esigerlo dal datore di lavoro così per estensione varia per tutte quante le altre cose è chiaro che un carabiniere che di turno deve lavorare la domenica un farmacista deve lavorare la domenica queste sono opere necessarie alla vita e al servizio di Dio le cose che stanno sempre i negozi però i supermercati i negozi di abbigliamento cose di questo non è affatto necessario che stiano aperti la domenica quindi non è esente da peccato sia chi li tiene aperti sia chi ci va rimangono in una zona di confine le attività di ristorazione e qui che io sappia c'è una certa discordanza di posizioni tra chi è più rigorista e chi è più tollerante nel catechismo anche nel catechismo nuovo della chiesa cattolica non c'è una dichiarazione palese evidente quindi la problematica va affrontata nella coscienza quando non c'è una soluzione devi seguire quello che ti dice la coscienza sia per quanto riguarda se tu fossi un gestore tengo aperto tengo chiuso e lì ma la domenica si concentrano tutti quanti gli affari chiuderei quindi questo vabbè però come tutte le cose di questo genere ce l'hai la capacità di fare una prova per esempio chiudiamo e vediamo se la provvidenza mi aiuta nel senso che con gli incassi non fatti di domenica campo bene lo stesso se potrebbe provare in linea di massima con il criterio generale meno si fa e meglio è i santi erano veramente molto molto rigidi a proposito dell'attività non necessaria alla vita c'è l'aneddoto dei padri più che non voleva che se stirassero i panni che se lavassero i panni insomma un panno non è indispensabile cioè certo se c'è soltanto un vestito e devi andare in giro nudo certo che te la devi stirare ma se ce ne hai due fallo un altro giorno proprio perché c'era questo senso di grande diverenza e anche perché capite come tutte le cose se ci si comincia facilmente a sbracare dopo ci si riduce come oggi che il giorno festivo è completamente perso quindi senza diventare integralisti e senza esagerare però il criterio è che meno si fa e meglio è meno si fa di non strettamente necessario o utile profondamente utile oppure giustificato la vita e meglio è la linea di demarcazione è inutile cioè è labile su questo punto non è definita ecco dal cielo da quanto io ho imparato in cielo pare che siano abbastanza rigorosi in terra ti dicono subito che sei rigido che sei troppo rigoroso ma da quel poco che si percepisce del cielo non sono molto lassisti in cielo 189 come conviene occupare giorni di festa vuoi proprio occuparli ah conviene occupare giorni di festa e fare a bene dell'anima frequentando la predica vedete un tempo c'erano le prediche domenicali oltre a quella il catechismo compiendo qualche opera buona e anche al riposo del corpo lontani però da ogni vizio e dissipazione ecco quindi vedete la schiettezza quindi ti vuoi riposare? è certo ti vuoi pure divertire? è certo basta che non fai il vizioso o il dissipato cioè un giorno del Signore è trascorso completamente nei divertimenti e il Signore dove sei completamente dimenticato insomma nei precetti positivi ricordate e santificare le feste capite che dobbiamo inventarci noi il modo con cui tendere al meglio la Chiesa ci aiuta dicendo la messa domenicale e l'astinenza e l'astenerti dai lavori dei servili non imposti e non strettamente necessari bene amici chiudiamo che siamo arrivati ci vediamo se Dio vuole la prossima volta e che Dio vi benedica e la Madonna sempre vi vorrei